Mi trovo al palazzetto del ghiaccio di Pinerolo ma oggi non sono qui per raccontarvi un appuntamento sportivo. Nei locali di questo impianto sportivo infatti è ospitato Teen Lab, un progetto transfrontaliero che ha coinvolto i comuni di Pinerolo e di Chambery e rivolto al contrasto, alla dispersione scolastica. Oggi è la giornata finale del progetto in cui vengono presentati un po' i risultati e in cui si fanno riflessioni sul suo futuro. Allora andiamo a vedere che cosa succede nei locali di Teen Lab. Il progetto Teen Lab Laboratorio Adolescenti è un progetto finanziato dal programma europeo Alcotra. È un progetto che è nato dalla cooperazione fatta con il comune di Chambery. Chambery prima di noi aveva avviato un TIP Lab, quindi un modello Fab Lab rivolto a ragazzi in dispersione. Noi abbiamo elaborato un dossier di candidatura partendo da questa esperienza per portare in Italia, quindi in questo caso a Pinerolo, una esperienza simile. Il grande lavoro fatto è stato quello di coinvolgere le diverse istituzioni che si occupano di ragazzi che potrebbero essere a rischio di dispersione. Quindi parliamo degli istituti scolastici di istruzione secondaria, dell'Agenzia Piemonte Lavoro che si occupa quindi di tirocini e di inserimento nel mondo del lavoro, le agenzie formative, gli insegnanti orientatori delle diverse istituzioni scolastiche, non solo ma anche il progetto Orientamento Lavoro della Regione Piemonte, per offrire ai ragazzi delle opportunità ulteriori rispetto al percorso scolastico. Questo progetto nasce da una volontà politica e da una progettualità che nasce proprio politicamente che è la volontà di lottare contro la dispersione scolastica. Il progetto è prevalentemente rivolto a quelli che in gergo si vengono definiti NIT, ovvero ragazzi che si disperdono, abbandonano per mille motivi il loro percorso di studi e poi questi ragazzi non te li trovi né iscritti in altre scuole e né iscritti al centro per l'impiego o nelle liste dell'INPS. Quindi sono persone che di fatto non studiano, non lavorano e che vengono dispersi. E la risposta non è una risposta scolastica o lavorativa, è una risposta extrascolastica ed extra lavorativa, ovvero qua non si vengono a fare corsi di formazione, non si vengono a sostenere esami o prove di alcun tipo, ma si vengono a fare delle attività e si impara sostanzialmente a utilizzare macchinari come questi, che sono macchine semplici a controllo numerico. Questo è uno spazio dedicato ai ragazzi per imparare, è un laboratorio digitale a tutti gli effetti, ovviamente le prime cose che rimangono all'occhio sono i macchinari, quindi le stampanti 3D, tagli laser, le frese a controllo numerico. La verità è che questo è uno spazio dove i ragazzi possono imparare, fare degli errori senza doversi giustificare, quindi è uno spazio dove possono apprendere facendo. Gli vengono insegnati i principi della digital fabrication, vengono messi a disposizione dei ragazzi una serie di computer che possono utilizzare con diversi software open source per poter disegnare, sviluppare e customizzare i loro oggetti. Abbiamo quindi la possibilità con i ragazzi di imparare a costruirsi i loro oggetti e imparare a conoscere i materiali e a sperimentare. Ma questo progetto deve avere un futuro, nel senso che oggi è l'evento di chiusura finale. È chiaro che i finanziamenti da qua in avanti non ci saranno più, quindi bisogna in primis capire come finanziarne, come finanziare le ore di apertura e che futuro dare a questo tipo di progettualità qua. Al momento l'obiettivo primario è trovare le risorse anche a bilancio per riuscire a quantomeno dargli una certa continuità. Poi vorremmo aprirlo non soltanto a questi ragazzi qua, ma ci piacerebbe aprire questo spazio a chiunque. È uno spazio che ti permette di venire qua, utilizzare delle macchine a titolo gratuito e realizzare delle cose. Questo può essere un gioco, un hobby, così come anche invece un percorso di crescita per tanti ragazzi che in questo momento sono in difficoltà.